Ciao a tutti e benvenuti a Gioco con me, giochi per bambini. Allora, 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 vi ricordate la penna unicorno che vi avevo fatto vedere un po' di video fa? Bene, oggi abbiamo un'evoluzione, se vogliamo chiamarla così, una cosa molto interessante che sicuramente vi piacerà forse anche di più della penna unicorno. Guardate cosa abbiamo qui, il dispenser di, di cosa? Di scotch a forma di unicorno, incredibile. Allora, cosa ne dite? Guardate qua, super colorato, con i colori dell'arcobaleno, è incredibile. L'abbiamo comprato su Amazon, quindi lo potete trovare molto facilmente. E come vedete è come se fosse il papà della nostra penna unicorno, perché è anche più grande per ospitare ovviamente lo scotch. Per i bambini dagli 8 anni in su ed è unico. Anche la confezione, insomma, è molto carina, è andata anche per essere regalata a qualche vostro amico, perché no? Ora la spacchettiamo perché lo vediamo più da vicino. Tra l'altro vediamo che abbiamo anche in dotazione nella confezione un altro scotch, vedete, oltre a quello già inserito nel, come posso dire, nel corpo del nostro unicorno, nella schiera, vedete? Allora, qui è incollato, ok, è rimasta un po' di colla. Ok. Eccolo qua, vedete? Carinissimo. Qui ovviamente c'è lo scotch che gira, il visino del nostro unicorno mi fa morire, sembra sempre che stia ridendo, ridendo mi ricordo tantissimo il ciuchino di Shrek. Voi cosa dite? Eh sì. Il viso è quello, dai, non potete dirmi di no. Allora, ovviamente è semplicissimo utilizzarlo, proprio come uno scotch normale, vedete che c'è anche qui. si prende un pezzettino di scotch, ovviamente è quello del cobaleno, quindi vi rallegrerà i vostri quaderni. Vedete? Adesso ha la coda il nostro unicorno e via che si taglia! Opla! Si taglia anche abbastanza bene e avete il vostro pezzettino di scotch, proprio uno scotch normale. Abbiamo anche, come vi dicevo, la seconda cartuccia, quindi non è un problema. Ovviamente non sprecatelo per cose futili, ma per cose molto belle. Se dovete, appunto, magari scocciare un foglio che ritenete particolarmente importante, lo abbellite con questo scotch color arcobaleno. Vedete che per cambiare lo scotch si apre a metà, il nostro unicorno si mette lo scotch e si richiude, è molto molto semplice, quindi non c'è assolutamente nessun tipo di problema. Ed eccolo qua. Gli lasciamo un po' di codina, ok. Ma quanto è bello! Mi piace tantissimo. Allora, mi piace molto di più della nostra penna, ma ovviamente era il nostro cucciolino, la penna. Qui c'è il papà e quindi, insomma, il papà è sempre un pochino più importante, diciamo così. Voi cosa ne pensate? Allora, ditemelo nei commenti se preferite il cucciolino o il papà e lasciateci un like se il video vi è piaciuto. Ovviamente, iscrivetevi, scusate, al nostro canale per rimanere aggiornati con noi su tutti i nostri video, tutte le nostre novità. Io vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti!